buona sera a tutti sono felicissima di partecipare a questa edizione del festival e ringrazio il presidente del vittoriale nonché direttore artistico per questo invito giordano bruno guerri regione abruzzo il presidente lorenzo sospiri per avermi ospitata in una manifestazione di grande successo e questa sera ascolterete brani tratti dai miei tre album io sono una compositrice i miei tre album che ho pubblicato con sony e con warner giocando con i bottoni room 24 0 1 e l'ultimo album yassi or anima system in una versione per pianoforte solo yassi or anima system è un progetto internazionale al quale ho lavorato con tom russo produttore americano che ha vinto 16 grammy awards e con l'orchestra di praga john axelrod ha diretto questa magnifica orchestra tutte composizioni mie originali musica classica contemporanea dove tutti potranno viaggiare con la propria fantasia con la propria anima è una musica che linguaggio universale dove ognuno poi potrà a trovare i propri significati della propria storia ho scelto un pianoforte molto particolare questa sera per l'evento pianoforte si chiama matisse della collezione fabbrini preparato per me da fabbrini dal signor fabbrini che ha lavorato con arturo benedetti michelangeli è una realtà qui a pescara molto importante molto prestigiosa è un pianoforte che ha dei colori e molto molto intensi con delle sfumature che sono sicuro e potrà arricchire appunto ampliare no questa esperienza emotiva grazie a tutti grazie a tutti